Di nuovo bentrovati, si parla di lavoro, si parla di occupazione, si parla di numeri che riescono a fotografare un pochino la situazione piacentina, ma anche soprattutto Emiliano Romagnola lo ha fatto Confapi Industria con un convegno in cui si è trattato appunto di questo tema. Noi siamo in compagnia del vice direttore di Confapi Industria, Marika Lusardi. Intanto buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Ecco, dicevamo, si è parlato di occupazione, i dati che avete snocciolato sono tantissimi, ma un elemento balza all'occhio, ovvero che questo gender gap, per chi insomma non lo sapesse, è un pochino il divario tra uomini e donne per quanto riguarda il mondo del lavoro, stipendi, occupazione e quant'altro, stenta un pochino a diminuire, è sempre ben presente. È emerso anche un po' questo, vero, dal vostro incontro? Sì, assolutamente sì, l'incontro è appunto stato molto interessante perché ha permesso proprio di illustrare i presenti, quelli che sono i numeri, i dati, proprio estremamente attuali del mercato del lavoro di Piacenza. Tramite la dottoressa Liliana Tessaroli, che è la dirigente del servizio territoriale Ovest Parma e Piacenza dell'Agenzia regionale per il lavoro. Diciamo che il dato, appunto questo gender gap, possiamo tradurlo proprio semplicemente in numeri per capire come il tasso di occupazione e l'occupazione maschile, oggi il tasso di occupazione è molto alto, è molto importante. Un dato significativo perché si attesta al 76,8% e se lo raffrontiamo appunto ai dati addirittura europei dove il dato medio è sul 75%, quindi il nostro territorio e la regione Emilia Romagna ha un tasso di occupazione maschile veramente, veramente importante. Per quanto riguarda invece l'occupazione femminile, i dati non sono proprio così felici, in quanto sono leggermente aumentati i valori rispetto al passato, però abbiamo un 64,4% contro il dato europeo che si aggira sul 66%, quindi si fa fatica questo gender gap a ridursi. Si auspica che tutte le varie politiche che si vengono messe in campo, non per ultimo, diciamo lo smart working che ci siamo tutti abituati ad utilizzare dal periodo post Covid, è stato senza dubbio una leva, un incentivo anche per l'occupazione femminile. Come associazione tramite anche il nostro gruppo donne imprenditrici con FAPID siamo sempre in prima linea per tutte le varie iniziative a favore dell'occupazione femminile, l'occupazione intesa proprio a livello imprenditoriale, ma non solo. Tanti sono appunto i progetti che attuiamo proprio in tema parità di genere, perché questo divario deve essere nel tempo appunto colmato il più possibile. Ecco, a questo punto mi attacco questa ultima sua frase per chiedere domande da un milione di dollari, ma come si fa? Quali sono i primi passi per colmare questo divario? Allora, questo divario oggi si parla tanto appunto di parità di genere anche intesa come certificazione, perché di fatto nel momento in cui a livello nazionale si è definita questa certificazione della parità, tante aziende, tante realtà si sono approcciate. Io quello che penso che non deve essere un'etichetta, cioè non deve essere la certificazione, ma deve essere proprio un percorso strutturato che porti a migliorare l'ambiente di lavoro, a favorire la meritocrazia e a ridurre i pregiudizi. Proprio stasera saremo all'università a cercare di illustrare questo appunto agli studenti, perché anche loro come futuri lavoratori, professionisti e leader avranno un ruolo centrale in questo cambiamento. Quindi io penso che andare ad educare, educare forse è un termine troppo forte, però appunto i giovani che sono proprio loro che saranno e possono essere protagonisti e agenti proprio in questo cambiamento. Che per forza di cose è necessario, è necessario perché per me, quantomeno per noi, per quello che vediamo, per una condizione necessaria per il progresso sociale ed economico. Perfetto, perfetto. Intanto noi a questo punto vi auguriamo buon lavoro, visto che avete un'agenda fitta di appuntamenti e grazie di essere stata in nostra compagnia. Grazie mille a voi per l'attenzione. Grazie mille a voi.